Rimarrà aperto già da martedì 6 novembre uno sportello della Biblioteca Comunale Senatore Avvocato Carlo Torelli di Arona nel Palazzo Municipale. La sede di Piazza San Graziano, per un anno, sarà interessata da lavori di ammodernamento sia strutturale che logistico. Dopo le proteste dei lettori e una mozione e un'interrogazione da parte dell'opposizione, il Sindaco Alberto Gusmeroli e l'Assessore per la Cultura Chiara Autunno hanno trovato una soluzione per mantenere aperto un punto di prestiti con le novità editoriali e di consultazione dei giornali nella sala Tommaso Moro, ex consigliare, a piano terra di Palazzo di Città. Questo al fine di alleviare al massimo i disagi agli utenti e agli studenti. Questo servizio sarà ulteriormente incrementato dal prossimo mese di marzo. Lo sportello rispetterà le aperture dal martedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio e al sabato solo al mattino. La notizia è stata presa con soddisfazione sia dagli utenti che dalle forze politiche, sia di minoranza che di maggioranza.